bella tutti i free readers bentornati a questo appuntamento con spliff break come vi avevo promesso oggi siamo a inaugurare finalmente ce l'avete chiesto in tanti grandi davvero per la pressione per l'impegno che mettete nel diffondere questo canale finalmente per supportare l'associazione l'attivismo stampare i volantini agire sul territorio presenziare fare banchetti eccetera eccetera se volete sostenere l'associazione free with e in particolar modo me che faccio questi video tutto lo staff che fa queste situazioni di informazione quotidianamente oggi ci si può iscrivere a questo canale e abbonarsi sono 4 euro 99 al mese volendo si può fare per un mese poi di sdire poi rifare eccetera eccetera è un modo simbolico per fare una donazione e per partecipare economicamente supportando il lavoro che c'è dietro credetemi che ce n'è tanto di informazione trovare notizie montare diffondere mettere i video continuare a stare sul pezzo è importantissimo e per fare questo servono mezzi perché il tempo e le persone come abbiamo già detto tante volte ci sono ma servono magari i mezzi e dunque i mezzi possiamo farli insieme e come associazione siamo fortissimi come realtà di attivisti siamo veramente forti lo abbiamo dimostrato con la raccolta firme e lo dimostriamo ogni giorno e cerchiamo di ampliarci quindi oggi chi vuole può sostenere non solo col tesseramento e con le durazioni normali ma anche abbonandosi a questo canale youtube trovate tutte le info sotto nel tasto abbonati quindi potete farlo in autonomia io già ringrazio tutti quelli che vorranno partecipare perché davvero col cuore e anche con i soldi ci mettono davvero l'impegno in questa causa grazie a tutti noi continuiamo a lottare e insistere bella tutti i free readers fino alla libertà